Ciao e bentornati, oggi un breve video giusto per dirvi che d'ora in poi a causa del lockdown prolungato qui a Sydney ridurrò al minimo la produzione dei video, in particolare postici però tutta la creazione dei video tutorial e ridurrò all'osso questo diario settimonale, questo perché come sapete purtroppo siamo in tre in una piccolissima casa dove non ho spazio per isolarmi e quindi non posso prendere tempo e lunghe registrazioni che chiaramente che hanno abbastanza fastidio per gli altri. Inoltre la connessione internet che abbiamo è molto lenta e tra utilizzarla per le lezioni da remoto, lavoro, upload, download file, chiaramente non c'è spazio per fare anche upload di grandi file per lungo tempo come i video appunto. Quindi per ora mi concentrerò di più su altre cose ma abiterò comunque aggiornati come sempre sui futuri sviluppi e vediamo quando decino di farci uscire dalla prigione per farci tornare a correre dentro alla gabbia dove c'è la ruota del criceto. Ciao a presto!